Il 24 di agosto Pesaro vola a Los Angeles per la posa della stella di Luciano Pavarotti nella Walk of Fame di Hollywood. Pesaro come città adottiva del maestro, insieme a Modena, che è la città natale. Presenti le istituzioni, ma presenti anche un po' amici, affetti di chi ha conosciuto Luciano Pavarotti nella sua esperienza a Pesaro. Riccardo Del Bene è uno di questi, che è stato il suo infermiere personale per la fase conclusiva della vita di Pavarotti. Le chiedo che esperienza è stata e com'è nata? Allora, partiamo dal fatto che sono molto onorato di partecipare a questo evento, di essere presente, lo faccio molto volentieri. È un affetto grande che è nato da un'esperienza di lavoro che ho vissuto con il maestro qui a Pesaro, in quanto comunque l'ho conosciuto negli ultimi due anni della sua vita, arrivando a Pesaro dall'intervento che fece a New York. Chiese informazioni nella città di qualche infermiere e mi presentai io e da lì da subito nacque questa relazione lavorativa, professionale, come infermiere di assistenza 24 ore su 24, che andò avanti fino alla sua morte. Cosa fu per lei questo rapporto? Cioè l'essere così a stretto contatto fisico con una leggenda? Allora, dire la verità è stata naturalmente un'esperienza importantissima della mia vita, che sicuramente mi ha segnato, mi ha anche fatto capire e conoscere un mondo che non era mai venuto a conoscenza, non era mai stato a stretto contatto con personaggi di questo calibro. Sicuramente lui era poi l'apice di professionisti nel settore musicale, di artisti vari. È stata un'esperienza importante, impegnativa comunque, perché il maestro era una persona sia esigente, ma allo stesso momento una persona molto vera, molto genuina e quindi molto legata alle famiglie, agli affetti e agli amici. E questo io l'ho vissuto in prima linea, quindi conoscevo benissimo le sue famiglie, dove mi hanno subito preso benvolere, dove sono sempre stato a stretto contatto con le figlie, con la Nicoletta, con la nuova famiglia. E nel contempo lui ha sempre voluto la presenza anche della mia famiglia quando eravamo al di fuori di Pesaro, quindi spesso insomma veniva mia moglie, i miei figli. È stata un'esperienza importante un po' per tutta la mia famiglia, che mi ha fatto conoscere insomma un personaggio veramente al di fuori di ogni aspettativa. Io ho vissuto insieme al maestro questo rapporto di vicinanza durante il giorno, nella notte, dormivo nel letto a fianco a lui, c'era sempre un letto sia a Modena che a Pesaro, in qualsiasi posto si andava, e quindi io ero 24 ore su 24 a stretto contatto con lui. Mi allontanavo solamente quando entravano persone, o la moglie, o che dovevano magari stare in forma privata, io mi allontanavo, ma sapevo benissimo che dopo qualche minuto mi chiamava per lui, era una sicurezza, vedeva in me sicuramente una sicurezza per la sua salute, per la sua igiene, per tutto, quindi ogni cosa che succedeva mi chiamava, io ero sempre presente. C'ho aneddoti da raccontare che infiniti, mi allontanai una volta, andai a Livigno con la famiglia a fare una settimana di ferie, un Natale, mia figlia era piccolissima, non presi neanche l'autostrada che mi chiamarono subito perché non voleva fare la doccia senza la mia presenza, questo è un aneddoto che quella volta dovessi stare al telefono per spiegargli che alla fine ero fuori, non potevo tornare, ma lui insisteva che dovevo essere lì presente, questa è una delle tante, insomma, era un rapporto strettissimo, di lavoro e anche altro comunque. Oggi hai con te anche un Cimegli, uno dei vari doni che comunque l'esperienza con Luciano Pavarotti ti ha lasciato. Sì, me lo tengo sempre molto stretto, infatti è una delle poche volte che esce di casa, perché sinceramente è una cosa a cui tengo tantissimo, è uno dei suoi fulari a cui lui teneva, ne aveva tantissimi, che mi regalò in una giornata che disse che questo colore stava bene, con il colore della mia pelle perché venivo dal mare, ero scuro, un po' arrossato, dice devi metterti questo, me lo tengo molto stretto ed è un Cimeglio ed è un regalo che porterò sempre con me, insomma.